E' sempre più vicina la realizzazione dell'assevierio di collegamento tra la zona portuale di Sant'Agata Militello e la statale 113 nei pressi dello svincolo A20, finanziata con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per gli interventi infrastrutturali e di urbanizzazione della zona economica speciale Sicilia-Orientale. Si sono concluse infatti le procedure di gara per accordi quadro, celebrata da Invitalia per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione e dell'esecuzione dei lavori per un importo complessivo di oltre 7.780.000 euro. Ad aggiudicarsi i servizi di ingegneria ed architettura per l'elaborazione del progetto esecutivo, un raggruppamento di professionisti comandatari alla Piacentini Ingegneri SRL. I lavori sono stati invece aggiudicati al consorzio stabile Infratec Scarl. Nella stessa procedura sono stati inoltre affidati la verifica della progettazione alla società Rinacec SRL e servizi di collaudo al raggruppamento con mandataria Encoen Partners SRL. Soggetto attuatore dell'intervento è il commissario straordinario di governo per la ZES Sicilia-Orientale, professore Alessandro Di Graziano, che nei giorni scorsi ha incontrato a Catania il sindaco Bruno Mancuso, il RUP Ingegner Basilio Sanseverino e il supporto al RUP Geometra Claudio Frusteri. Per definire alcuni aspetti procedurali necessari a garantire l'avanzamento dell'iter secondo il rigido target previsto dal piano operativo del PNRR, che impone l'avvio dei lavori entro il 31 dicembre 2023 e il collaudo o certificato di regolare esecuzione delle opere entro il 30 giugno 2026. Ci siamo dunque per la concretizzazione, dice il sindaco Bruno Mancuso, di un'opera che rappresenta una grande scommessa per questa amministrazione comunale, ritenuta da sempre strategica e di fondamentale importanza per lo sviluppo di Sant'Agata di Militello e del comprensorio, nell'ottica della piena funzionalità ed operatività del porto De Nebrodi in fase di ultimazione con annesso collegamento all'area industriale ed artigianale. Grazie. Grazie.